Nuovamente anche Petrucelli sul parquet, faccia a faccia con Tanfoglio, giovanissimi, mandati in campo dai due tecnici per questo finale di match. Volta Tensai, cambio difensivo, Acheleso di lui, pallone ancora per Zao, prova ad attaccare Tanfoglio, va fino in fondo, alza la parabola, è sfortunato però arriva il tapine di Lulani. Poi Zao dall'altra parte, due minuti, ancora in questa serata la pallarionessa, Zao per il tiro da tre, a bersaglio, Weilun Zao. 29 secondi ancora da giocare, ecco la bella giocata di Weilun Zao.